La procura di Genova ha dato parere positivo alla revoca degli arresti domiciliari per l'ex presidente della regione Liguria Giovanni Toti. Il giudice per l'udienza preliminare potrebbe decidere tra giovedì e venerdì. Dopo le dimissioni per gli inquirenti non ci sarebbe più il rischio di reiterazione del reato. Il riesame aveva già sostenuto come fosse venuto a meno il rischio di inquinamento probatorio. Per l'imprenditore Aldo Spinelli invece gli inquirenti tengono il massimo riservo ma il parere potrebbe essere negativo.